Oh ma buongiorno! Sto fumando, sto telefonando, buongiorno, non vale così però eh Sì che vale! Sto giocando a Spock Sono fuori da Felix Ho una camera in fronte di me Una camera dell'Italia Prendi la mano, se capisci Ciao, cosa volete da me? Ciao Tommy! Ho mangiato, Roland Eh vabbè, sotto il cielo piovoso di Amsterdam Piovoso, sì Sei arrivato oggi? Aurora Ma porquà? Perché devo lavorare questa sera? Ma dove eri, dove eri, dove eri i giorni precedenti? Eh, in realtà, ero giovedì, ero a Roma con Alberto Abbiamo fatto DJ Time The Party Ci hanno divertito un casino, bellissimo E stasera Supper Club? Stasera Supper Club Supper Club Supper Decibel Party E allora cosa prevedi? Promotion, promotion Cosa prevedi? Prevedo Norda di gente Una festa pazzesca Andiamo avanti fino alle 10 di mattina, credi? Sì, certo Cosa? Perché sì, certo? Tu non devi venire alle 9 e mezzo L'appuntamento a 9 e mezza noi 9 e mezza? Certo, domani mattina a 9 e mezza Porti croissant Tu porti croissant e io porto i cappucci Ok, tu porti i cappucci che pioverà Io porti i cappucci e tu porti croissant Le battute si sprecano, grazie, sempre un piacere vedervi Eh, tami, altrettanto Ciao Ma buongiorno Anche qua? Ecco Un, due, tre, tutti pronti Di barretto Con l'ombrello Con l'ombrello Oh, ma ragazzi In mezzo alla strada Al cielo piovoso di Amsterdam Sotto l'ombrello di Luca Provera Marco Mazzi Roberto Intralazzo E Luca Provera Fantastico Ecco la sigaretta col sigarillo E' vero che non la fai vedere Non dovete dire queste cose del backstage Cosa fa? Allora Ho fatto business? Ho fatto business? Eh, non l'avete fatto business? E' lot of business Qua tutti fanno business qua Vendono biciclette Tipo ebay obay Tipo ebay Tipo gli obay obay Ebay 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 Marco e tu? Io sono venuto perché guarda la bicicletta Sotto preoccupami sta bicicletta qua Anche tu La più bella bici del mondo Anche tu Guarda bellissima Ti vogliono rubare quella bicicletta in questi giorni Alla della fate le Vanmoof Sono le migliori biciclette che esistano Ma sei arrivato Ed eravamo qua che parlavamo di biciclette Ma sei arrivato con Tommy oggi? Sì, oggi pomeriggio Io Tommy V Eccolo lì Fa fare Marco di sabato mi arrivi alla conference C'ho l'appuntamento alle 5 Devo andare in un posto Non so neanche dov'è Non so più cosa fare Ma così non ti posso neanche chiedere cosa pensi di questa conference? Guarda è bellissima e ti dico La prima volta che vengo ad Amsterdam No veramente è la prima volta che vengo ad Amsterdam Una città stupenda Mi piace E tornerò sempre adesso così Perché poi ci sono i miei amici Vado qua dietro a mangiare a Lily Bar Marco però stai diventando sempre più... Non è vero niente! Stai diventando sempre più bello, è vero! C'hai ragione! Stai diventando sempre più internazionale tu! Come mai? Ma non lo so! Si vocifera! Rumors! Tutto quello che si vocifera non è vero niente! Smentisco categoricamente tutto quello che si dice su di me! Cribio! Cribio! Ha comprato novella 3000 Esatto! Non è vero che porti in Italia! No no! Non è vero niente! Basta! Ciao! Vado ai panel! Vado ai panel! Vado ai panel! Smentisci! Categoricamente io non so niente! Non so neanche di cosa stai parlando! Vabbè amici di NG Television voi rimanete sintonizzati perché Marco Mazzi tornerà molto presto con qualche news veramente... Basta al market! Biciclette! Beh avete capito che si tratta di... No! Di biciclette! Stiamo comprando la Vanmoof! Vi consiglio di acquistare la Vanmoof da Rossignoli a Milano in via Garibaldi a Milano! Siccome in Italia la musica dance non è promozionata su nessun giornale, i DJ non sono promozionati su nessun giornale, il nostro Marco Mazzi... Non si sa! Ciao! Ciao! Il nostro Marco Mazzi ha ben pensato! No, è vero NG! Non mandare in onda! Il nostro Marco Mazzi!